Sono 42 i nuovi casi di coronavirus registrati in Abruzzo. Nelle ultime 24 ore di questi, 7 riguardano la provincia dell'Aquila, 14 quella di Chieti, altrettanti quella di Pescara e 7 la provincia di Teramo. I positivi di oggi hanno età compresa tra l'1 e gli 84 anni. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 962. 72 sono ricoverati in ospedale, di cui 6 in terapia intensiva. Dall'inizio dell'emergenza oggi sono stati effettuati 205.994 test, di cui 2012 nelle ultime 24 ore. A comunicarlo è l'assessorato regionale alla sanità.